Dopo il Busieschi non abbiamo voluto nessuno che prendesse il posto del capitano e allora abbiamo convinto il buon colonnello Bettoni a dare il comando di squadrone interinale al tenente Toia che era il mio comandante di Protone, il quale a quel punto prima di tutto mi ha promosso sedente sul campo, mi aveva avvicinato, ricordo stavo sistemando la testiera mi avevo letto, mi ha detto ti devo proporre per la medaglia d'argento, non voglio medaglia d'argento ma no, ma quella medaglia d'argento, no, troppe medaglie d'argento, io ho saputo che ne davano 76 di medaglie d'argento per cui era un po' un'inflazione, non ci credevo e dice beh allora la promozione a sergente non me la potrei rifiutare per cui mi ha fatto promuovere il sergente sul campo e mi ha fatto prendere il comando interinale del Protone c'era al Protone c'era un sergente maggiore, sergente maggiore Mannotti il quale ben contento che fossi io a comandare il Protone, aspettavo lui come più elevato in grado ma va bene che lo comandi tu il Protone e così abbiamo continuato la nostra azione sempre di tamponare andando verso nord spostandoci perché da lì venivano sui rumeni e noi ci siamo spostati verso nord per andare praticamente verso lo schieramento che era del Novara, regoparci lì grazie grazie